Putin, Vladimir Putin, vincere le elezioni presidenziali di Russia. Bene, vogliono a tutti che vi possa andare a garantire che Putin sarà di nuovo il presidente di questo paese più grande che fa parte dell'Europa in una sua parte e in un'altra fa parte del continente asiativo. Va bene? Sono convinto, infatti, che a margine dello spoglio, ma anche senza che ci sia lo spoglio, Putin sarà il vincitore, quindi sarà rieletto, si confermerà di nuovo, per l'ennesima volta, credo sia il suo quinto, quando dato questo lo chiamiamo, presidente di Russia. Questo perché? Perché vi ricordo che oltretutto non ci sono sfidanti, non ci sono candidati, avversari politici che ci sono candidati per sfidare lo straducio per l'eccellesca, anche perché molti di quelli che vorrebbero candidarsi temono di fare una propria fine, cioè soltanto lui basta per essere votato. Sembra esserci una buona influenzata di voti, il 67% circa, e ovviamente così, il 67% dei voti saranno tutti espressi in fronte liberati e puliti. Vabbè, iscrivetevi al canale dei commenti, è una buona ragione a voi, dal vostro reangolo, una ragione a voi.